La riforma della scuola spinge presidi e sindaci attorno a un unico tavolo, acclusone l'overe confronto su offerta formativa e orientamento, notato uno scollamento tra indicazioni degli insegnanti e scelte dopo la terza media. In arrivo un nuovo parcheggio a Novazza di Valgoglio, almeno dieci posti auto nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del cimitero. Domenica a Rovetta una festa porta verso l'inverno. Durante la giornata mercatini, laboratori didattici, musica, intrattenimento, giochi per bambini e molto altro ancora. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. La riforma della scuola spinge presidi e sindaci attorno a un unico tavolo. Scopriamo come si sta lavorando all'overe e clusone. Anche la comunità montana dei laghi bergamaschi si sta interessando ai percorsi di orientamento che fanno i giovani sul territorio. Sì, esattamente. L'interessamento deriva dal cosiddetto tavolo della scuola, cioè un luogo con cui vengono riuniti e si trovano tra di loro per confrontarsi tutti i soggetti pubblici e non che sono interessati al tema della scuola. È un'iniziativa che è nata nel corso di quest'anno, che ha mosso i suoi primi passi all'inizio dell'anno e che si sta concretizzando soprattutto in questo periodo con delle soluzioni pratiche e dei suggerimenti legati soprattutto al tema dell'orientamento. Avete rilevato qualche situazione particolare sul vostro territorio? Sì, un problema abbastanza emergente e di emergenza è quello che è stato sottolineato e segnalato dagli istituti relativo allo scollamento tra le indicazioni che vengono date agli studenti delle scuole medie rispetto alle scelte degli istituti superiori. Spesso ci sono molti ragazzi, molte famiglie che non tengono in adeguata considerazione i suggerimenti che vengono fatti dagli responsabili orientamento delle scuole medie e questo crea difficoltà ai ragazzi stessi che spesso, e la statistica lo dimostra, sono costretti ad abbandono scolastico o comunque a difficoltà scolastiche per non aver attentamente valutato o tenuto in considerazione quelli che erano i suggerimenti dati dai loro insegnanti. E sotto questo profilo teniamo presente che non ci sono solo gli insegnanti che si occupano di questo tema, ma ci sono anche altri soggetti quali formatori, informa giovani, le strutture, i cosiddetti salottini, cioè luoghi che vengono organizzati per mettere a disposizione degli studenti le informazioni e per poter assumere delle scelte in maniera consapevole. Ecco, il mondo della scuola ha richiamato intorno a un tavolo più soggetti anche sul territorio di Clusone. Sì, sì, l'occasione è stata quella introdotta dalla legge 107 della Buona Scuola che ha reso obbligatorio per le scuole l'elaborazione di un piano dell'offerta triennale e quindi ha costretto gli istituti, direi cosa ottima, a ragionare non solo per l'annualità a venire in termini immediati, ma in una prospettiva almeno di medio e lungo periodo. E quindi sulla scorta di questo obbligo, diciamo così, di questo input, con il Comune di Clusone è venuta l'idea di iniziare a ragionare in termini più strutturali e con un investimento più ampio sul fabbisogno formativo, su quello che una scuola tipo il Fantoni potrebbe offrire al territorio, coinvolgendo tutto il territorio a livello istituzionale e anche il mondo del lavoro. Così il Comune di Clusone ha promosso un tavolo attorno al quale qui siedono i referenti delle amministrazioni qui dei vari comuni dell'Alta Valle e del mondo del lavoro. Siamo già al secondo incontro e con il supporto tecnico anche dell'osservatorio diocesano per il lavoro e per il sociale stiamo riflettendo appunto non solo rispetto alla contingenza che pure è una cosa di cui tener conto, ma anche a venire quale può essere la vocazione e quale può essere il fabbisogno e quindi l'investimento formativo da fare, da operare. Le scuole dell'infanzia paritarie della Lombardia avranno a disposizione le stesse risorse dello scorso anno. Da parte della regione non vi sarà nessun taglio e verrà mantenuto il fondo da 8 milioni, annuncia il consigliere regionale della Lega Nord Silvana Saita. Non sarà necessario alcun emendamento, prosegue Saita, poiché l'assessore all'economia Massimo Garavaglia mi ha assicurato di aver mantenuto pur con qualche difficoltà la promessa fatta. I fondi sono già inseriti nel bilancio regionale che arriverà al voto dell'Aula fra tre settimane. In un primo tempo sembrava che i fondi per le scuole paritarie dovessero essere dimezzati. Il mantenimento dei fondi regionali, nonostante i tagli del governo, rappresenta la storica sensibilità e attenzione da parte della regione nei confronti della libertà di scelta dei genitori lombardi, aggiunge Silvana Saita. Aiuti per chi studia arrivano anche dal consorzio del bacino imbrifero montano di Bergamo. Sentiamo cosa ci ha detto Vera Pedrana, consigliere comunale a Villa Donia e rappresentante per l'Alta Val Seriana nel BIM. Il BIM investe anche sul futuro? Sì, il BIM ogni anno stanzia dei fondi circa 100.000 euro per le borse di studio. Queste borse di studio vengono date a circa 250 studenti che appartengono ai comuni del consorzio e sono finalizzate a dare un piccolo contributo agli studenti che vivono in territori spesso disagiati affinché abbiano le stesse opportunità di chi vive in città. Sono dei piccoli contributi che ogni anno vengono destinati e che vorrebbero appunto fare in modo che questi studenti non si sentano meno rispetto a chi vive in territori con più opportunità. Il BIM non è soltanto un'occasione buona per gli studenti qualcosa sicuramente di più è un ente al quale si riferiscono i diversi comuni del nostro territorio ma come dialogare? L'idea è un po' quella che i comuni del territorio e delle varie zone facciano riferimento ai propri rappresentanti perché sono convinta che se c'è dialogo e c'è condivisione sui progetti si può utilizzare questi finanziamenti che comunque non sono pochi per realizzare dei progetti di lungo periodo che veramente vadano a beneficio di tutti i territori quindi non solo progetti destinati ai piccoli interventi che comunque sono leciti nei vari comuni ma diventino l'opportunità di sviluppo per l'intera valle. Voltiamo pagina La cittadina aprirà dopo le feste a Clusone il cantiere per la realizzazione della rotatoria nei pressi dell'area commerciale dell'ex cinema Mirage nei giorni scorsi le piante delle aiuole sono state rimosse per essere messe a dimora in altre aree verdi della cittadina non si è trattato di un intervento preparatorio all'immediata realizzazione della rotonda sia perché le temperature invernali non favoriscono i lavori sia perché con le festività natalizie in arrivo un cantiere stradale avrebbe potuto creare qualche disagio non lontano e alle battute finali la messa in sicurezza di Viale Gusmini nel 2016 l'opera sarà completata e i percorsi pedonali saranno raccordati con l'intervento dell'ex Mirage Andiamo a Novazza di Valgoglio dove è in arrivo un nuovo parcheggio verranno realizzati almeno 10 posti auto nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del cimitero un'opera non prevista nel progetto iniziale il nuovo spazio insieme alla sistemazione della strada d'accesso renderà più facile far visita ai defunti Ci troviamo a Novazza di Valgoglio dove da inizio ottobre sono in corso i lavori di riqualificazione del cimitero a che punto è l'intervento? Devo dire che con grande soddisfazione il tempo ci ha aiutato molto l'impresa Valpar ha dimostrato di essere capace come l'aveva dimostrato al precedente intervento a Valgoglio con il cimitero devo dire che l'intervento che inizialmente doveva costare 195 mila euro interamente finanziati con le casse del comune tenendo presente che erano partiti con una base d'asta molto bassa invece abbiamo trovato sei persone sei imprese che sono state attente e interessate non solo abbiamo avuto un ulteriore sconto del 13,50 il che ci consente di dire con orgoglio che possiamo fare questo lavoro con un minor costo importante e che naturalmente saremo in grado di consegnarlo tra un mese un mese e mezzo alla popolazione non solo c'è l'intervento che va a riqualificare il cimitero mettendo la norma di igiene e di sicurezza ma soprattutto la strada che era veramente incredibile data la pendenza finale che era quasi di un metro di dislivello e consentiva diciamo non poche problematiche a chi voleva fare interventi con macchine e soprattutto con le persone nell'entrare al cimitero in sintesi cosa cambierà una volta che i lavori saranno finiti in sintesi cambierà tutta la strada che verrà messa a livello secondo una norma di intelligente geometria secondo punto verranno messi i pali che erano dieci anni fa predestinati ma mai inseriti qui ci sarà un problema perché le altezze sono diverse in più ci sarà all'interno del cimitero una struttura nuova che va a fiancare quella laterale di sinistra che occuperà gli spazi per urne cenerarie ossari l'altra ala che verrà costruita una piccola stanza per un pronto intervento con una camera mortuaria internamente ci saranno esattamente quattro campi uno per la memoria una per la decomposizione finale e due esattamente con 26 loculi già orizzontali già pronti quindi un intervento molto molto radicale aggiungo anche che a Monte anzi a Valle c'è stato un intervento di consolidamento del muro portante internamente perché altrimenti sarebbe franato a Valle in più su questa strada che ben vediamo verranno allocate grazie al contributo della popolazione inovazia qui ringrazio di cuore le persone che si sono dimostrate attenti e sensibili a questo nostro intervento che ci vede impegnati su più fronti ci saranno due illuminazioni nuove che rispecchieranno un po' l'architettura e il posto verrà prolungata il vecchio selciato come era un tempo inoltre tutte le bordure fiori e molto probabilmente anche la posa delle ardese perché vorremmo che venisse completato con le ardese per riqualificare al meglio lo spazio ci sarà ancora l'intervento di alcuni privati che si sono mostrati attenti precisi decisi e soprattutto fiduciosi in questa amministrazione li ringrazio di cuore e veramente consegneremo loro un cimitero che sarà sicuramente come si suol dire un gioiello anche se è come si suol dire la città eterna ma sarà una città eterna veramente dignitosa verrà realizzato anche un parcheggio assolutamente sì visto che in questo momento non è possibile se non parcheggiare una vettura due persone di Valgoglio che non vogliono essere menzionate le ringrazio di cuore hanno ceduto una bella fetta di terreno su cui poter mettere uno spazio non indifferente di 10-12 vetture quindi un ulteriore servizio che si aggiunge già al rifacimento totale della struttura cimiteriale all'illuminazione della strada che porta al cimitero all'illuminazione anche della vecchia mulattiera anche il parcheggio quindi penso che a Novazza venga fatto ciò che merita Novazza in questo momento lo smaltimento dei rifiuti si sa si paga a peso a volte basta una tettoia per risparmiare come è successo a Oltresenda Alta si è appena concluso un intervento alla piazzola ecologica di Nasolino in comune di Oltresenda alta che cosa avete fatto era una piazzola ecologica che era proprio nel programma di quando sono diventato sindaco e siamo riusciti a realizzarlo proprio in questo periodo perché l'intervento è tutto a carico del comune quindi ci siamo presi questo onere che è molto importante primo perché qui abbiamo persone anziane normalmente e quindi la piazzola ecologica è fondamentale perché le persone vengono qui e sono vicine alle loro case altrimenti avrebbero dovuto spostarsi molto lontano con le macchine quindi era una cosa quasi improponibile per cui la piazzola ha anche il vantaggio appunto di servire proprio i nostri cittadini e anche diciamo i villeggianti nel periodo estivo la copertura ci aiuta in quanto si evitano di bagnare tutti i materiali che poi vengono portati via dalla secco e costano cari quando sono impregnati d'acqua per cui la cosa c'è anche questo recupero lento però recupereremo il lavoro mi sembra venuto direi bene vediamo adesso di organizzarlo meglio dal punto di vista della disposizione dei vari cassoneti dei vari materiali da portare via l'abbiamo fatto anche con l'accordo con praticamente la responsabile dei rifiuti in modo da avere le altezze giuste che consentano di muoversi in libertà all'interno della piazzuola mi sembra una buona cosa e vabbè l'abbiamo realizzata parliamo anche di strade agro silvopastorali un tema che le sta molto a cuore lo sappiamo e che novità ci sono da questo punto di vista agro silvopastorali ritengo che sia fondamentale fare in modo che il nostro territorio che è grande come estensione abbia queste strade che sono fondamentali per il lavoro più che altro per chi ci deve lavorare e quindi diciamo ho in programma un paio di cose che sicuramente ritengo di poter fare prima della fine della primavera prossima è una sistemazione prevista già dall'anno scorso che però è stata spostata alla prossima primavera per sistemare un pezzo di strada verso il Möskel che parte diciamo da diciamo da metà circa del percorso e arriva fino alla località che è chiamata Grescala saranno 500-600 metri di strada che verrà sistemata decisamente bene in calcestruzzo e fatta in modo che non dia più problemi nel futuro un'altra cosa importante sull'altra strada agrosilvopastorale importante che abbiamo che è quella di Colle Palazzo praticamente la realizzazione di un parcheggio dove su proprietà del comune dove verranno poi messe le macchine che normalmente in Colle Palazzo vengono distribuite a caso sul territorio e stanno veramente male quindi avendo noi a disposizione a fianco della strada proprio vicino alla Pozza questo terreno che è un terreno normalmente imbevuto d'acqua cercheremo di bonificarlo e verrà fatto sicuramente il parcheggio e anche questo andrà verso marzo-aprile e contemporaneamente una sistemazione di una parte della strada sempre verso Colle Palazzo da Zanel andando su verso il Grumello Per noi adesso è il momento di una pausa al rientro parleremo dell'olio di marrone della festa in programma domenica a Rovetta per andare verso il Natale verso l'inverno poi la nostra rubrica dedicata agli animali a tra poco Riprendiamo con il telegiornale l'amministrazione comunale di Marone negli anni ha puntato molto su un prodotto locale ormai noto anche oltre le rive del lago di Seo stiamo parlando dell'olio da poco è stata introdotta un'etichetta con la scritta Marone città dell'olio Marone continua a valorizzare il suo territorio e lo fa anche attraverso il prodotto che più lo rappresenta il prodotto principe che è l'olio olio extravergine di oliva olio extravergine DOP dei laghi lombardi perché Marone fa parte del circuito dei laghi lombardi per quanto riguarda la promozione dell'olio olio extravergine DOP che caratteristiche ha questo olio? le caratteristiche principali sono di una bassissima acidità è un olio di polifenoli e poi ha un profumo delicato è un olio molto delicato che va bene su piatti a crudo sulle insalate e anche su carne cruda e pesce da diversi anni l'amministrazione comunale sta puntando su questo progetto si diciamo che il tutto è partito nel 2010 con l'allora sindaco Teodoro Teodoro Zanotti il quale è riuscito a far entrare Marone nell'associazione città dell'olio l'associazione città dell'olio ha un circuito di 300 associati su tutto il territorio nazionale ci sono regioni comuni province che fanno parte di questa associazione il compito dell'associazione è quello di valorizzare l'olio ma anche il territorio il territorio dei propri associati e quindi con questo sostegno riuscite anche un po' a omologare la produzione degli operatori si vorremmo appunto omologare la produzione perché essendo una produzione di poca quantità non abbiamo molto prodotto però è un prodotto di qualità e cercando di riunire le 4 o 5 aziende che hanno aderito si può andare sul mercato con anche una certa quantità di prodotto al fine di far conoscere meglio anche il territorio questo è questo è diciamo sono due gli aspetti principali promuovano l'olio e assieme all'olio il nostro territorio facendo di sinergia i risultati dovrebbero essere migliori anche perché aumentando la quantità diciamo che si raggiunge un livello per cui i sforzi di promozione di distribuzione possono anche essere un po' più economici sì esatto esatto questo è vero perché dicono che l'unione fa la forza diciamo che il progetto dell'amministrazione non riguarderebbe solo l'olio e l'olio la produzione dell'olio perché la promozione del solo olio non può essere fatta dall'amministrazione ma deve essere fatta poi in sinergia anche con tutti i ristoratori del territorio perché sono i ristoratori che dovrebbero darci una mano dovrebbero dare una mano all'amministrazione e anche ai produttori di olio perché se viene promosso nel ristorante questo ha già un'altra ha un ampio respiro allora sto dicendo che l'aiuto ci può venire anche dai ristoratori del nostro territorio l'aiuto nel promuovere e nel portare sulle tavole dei ristoranti il nostro prodotto il nostro olio perché se voi adesso faccio vedere la bottiglia sulla bottiglia c'è Marone città dell'olio e questo sarebbe una grande pubblicità a Marone e ai nostri produttori è stato presentato oggi a Bergamo il tradizionale concerto di Natale in programma sabato 12 dicembre alle 21 presso la Basilica di Sant'Alessandro in Colonna l'iniziativa è organizzata dal centro missionario bergamasco ASCOM Bergamo e associazione il telaio della missione nell'ambito della campagna di Natale sostenuta da molte realtà del territorio durante la serata verrà assegnato il premio Papa Giovanni XXIII giunto all'ottava edizione e dedicato ai missionari bergamaschi quest'anno suor palmanese Marchetti 86 anni originaria di Calcinate attiva in Egitto Don Alessandro Fiorina nato nel 1960 a Bergamo ora in Bolivia e inoltre alla comunità suore Sacro Cuore in Albania vediamo quest'anno assume un significato particolare anche per la concomitanza con il Giubileo della Misericordia dare premi a uomini e donne religiosi e religiose che operano accanto ai poveri vuol dire far conoscere che la Misericordia di Dio ha un volto particolare che è il volto della carità del servizio del dono nella nostra terra bergamasca ci sono numerosi giovani ragazzi e ragazze che durante l'estate fanno esperienze in terra di missione far conoscere anche queste tre testimonianze significa incrementare ulteriormente la conoscenza della loro testimonianza e suscitare sia forme di generosità straordinarie durante l'estate sia forme di servizio e di carità più ordinarie nella nostra vita di tutti i giorni quest'anno la novità è che ci sarà la presenza di due solisti al violino due ragazzini una ragazzina di 14 anni e un ragazzo di 12 anni che eseguiranno un concerto in re minore per due violini di Bach l'altra novità è che ci sarà anche l'inserimento delle voci maschili per eseguire il famosissimo Alleluia di Endel e ci sarà nella seconda parte del concerto un momento molto particolare realizzato solo dal coro dei piccoli musici con un pezzo dedicato alle laude di San Francesco e con un effetto diciamo in chiesa particolare di disposizione delle persone però il programma è ricco è molto bello perché è suddiviso in una parte diciamo classica con gli autori classici e una parte invece con brani natalizi anche quest'anno ci saranno 60 ragazzi nell'orchestra 60 voci nel coro di voci bianche che nell'assemblea femminile più un rinforzo di quasi una ventina di uomini quindi un totale di 150 persone che si esibiranno e sicuramente sarà un successo come quello che è stato nelle passate edizioni con il pubblico che ci ha sempre accolto con grande entusiasmo e soprattutto la cosa interessante è che riusciamo con questo concerto a unire formazioni e realtà di luoghi differenti domenica a rovetta una festa porta verso l'inverno scopriamo cosa c'è in programma rovetta si prepara l'inverno buongiorno a tutti rovetta si sta preparando per la festa d'inverno una festa che faremo il 6 dicembre a rovetta chiusura delle strade bancarelle musica avremo gli scultori della valle di scalve che faranno delle sagome di legno abbiamo le mascotte paperino minni topolino pluto e tanti altri personaggi per i bambini ci sono dei laboratori in piazza sempre per i bambini abbiamo lo snow tubing sempre per bambini diciamo che una festa prettamente per famiglie per bambini il pomeriggio ci sarà il lancio dei palloncini per la santa lucia poi avremo il lancio delle lanterne alle 5 e mezza di sera faremo l'inaugurazione dell'accensione del nostro albero ci saranno i ragazzi del country che aglieteranno il pomeriggio ci saranno i gonfiabili poi cosa abbiamo i giri in carrozza dalle 2 alle 5 ci sarà una carrozza che farà fare un giro turistico ai nostri amici che verranno a trovarci e poi c'è la polenta express a mezzogiorno vale a dire mille modi per mangiare la polenta tutti i bar ristoranti prepareranno la polenta con un qualcosa di particolare che questo non lo svegliamo e ora ci aspetta un altro viaggio alla scoperta del mondo degli animali in compagnia del veterinario Stefano Gusmini buonasera e benvenuti a Qua la Zampa con l'inverno spesso le persone piace dare da mangiare agli uccellini selvatici soprattutto per circondarsi di questa piacevole presenza ma anche soprattutto per sopportare la vita di questi animali selvatici che in alcune situazioni può essere messa in pericolo ci sono però alcune semplici regole da seguire per poter aiutare e non creare danni agli uccellini selvatici che vivono intorno a casa vostra innanzitutto quando bisogna alimentare gli uccellini selvatici quando c'è neve a terra o il terreno ghiacciato perché negli altri periodi gli uccellini sono perfettamente in grado di trovare il cibo di cui necessita quindi se il terreno è molto gelato dopo che è nevicato potete predisporre alcune piccole mangiatoie cercate di non creare dei luoghi in cui si affollano troppi uccellini quindi è meglio creare 3, 4, 5 punti diversi dove pochi uccellini alla volta possono nutrirsi per evitare di scatenare delle lotte tra questi piccoli uccellini e soprattutto anche per evitare accumuli di feci che possono poi trasmettere le malattie tra gli uccelli questo in questo caso potreste creare più danno che non beneficio cosa poter dare non date biscotti dolci o cibi avanzati perché questi potrebbero creare problemi ci sono sicuramente delle ottime miscele commerciali che potete utilizzare per nutrire gli uccellini e potete dare qualche briciolina o qualche residuo appunto di panificazione ma senza esagerare una cosa interessante sono le uvette i pezzettini di noci e altri cibi abbastanza calorici che alcuni degli uccellini che sono insettivori possono utilizzare in alternativa degli insetti che trovano nella bella stagione bene per questa serie è tutto ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento di Quala Zampa arrivederci ci fermiamo per una breve pausa e poi la parte finale del TG a tra poco ci avviamo verso la fine del nostro telegiornale apriamo la nostra pagina degli auguri questa sera dedicata ad Arnaldo Minelli per anni corrispondente da Albino della nostra emittente oggi è il suo compleanno tanti auguri da parte di tutta Antenna 2 e proseguiamo con i programmi in onda sulla nostra emittente questa sera alle 20 la preghiera d'avvento a cura dell'oratorio di Clusone alle 20 e 40 una nuova puntata della nostra rubrica il sasso nello stagno questa sera si parlerà di minorenni e alcol alle 21 e 20 Antenna 2 Sport il settimanale a cura di Lorenzo Norris alle 22 e 30 la seconda edizione del TG e alle 23 e 15 tempi supplementari il canale News 218 propone alle 21 e 30 il telegiornale alle 22 e 10 l'anteprima target dedicata al nuovo tipo di mais quello delle fiorine che è stato presentato nei giorni scorsi a Piario il canale Sportivo alle 20 e 30 la partita di calcio Lemine Albino Gandino e alle 22 e 10 uno speciale dedicato alla Pedal Diaul Sprint corsa in montagna a Comenduno proseguiamo con l'almanacco domani è mercoledì 2 dicembre il sole sorge alle 7 e 37 e tramonta alle 16 e 42 la luna è l'ultimo quarto sorge alle 23 e 33 e tramonta alle 12 e 50 di giovedì la chiesa ricorda Santa Bibiana infine le previsioni del tempo domani su Alpi e Prealpi Lombarde cielo in prevalenza sereno con temperature miti e anche per questa edizione è tutto grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti grazie a tutti